Oggi seconda giornata qui in Bahrain e abbiamo lavorato ancora un po' sulla macchina, abbiamo migliorato il nostro passo e siamo piuttosto fiduciosi, piuttosto veloci per domani. Poi abbiamo fatto abbiamo fatto la qualifica, purtroppo abbiamo trovato un po' di traffico, potevamo fare un po' meglio ma comunque partiamo ottavi credo e vabbè la gara sarà molto lunga e quindi vediamo domani. Ciao a tutti, oggi è tornata positiva, ha fatto un bel tempo, 2 e 2, partiamo ottavi ma soprattutto abbiamo trovato un bel passo per la gara, quindi siamo fiduciosi e gas, vediamo domani, la gara è lunga, ciao! Ciao a tutti, anche oggi è una grandissima giornata, ci siamo divertiti tantissimo, in qualifica sono stato abbastanza veloce, sono soddisfatto del giro che ho fatto, alla fine partiamo ottavi ma sarà una gara lunghissima dove sarà importante, sarà importante nelle prime segure mantenere la posizione e recuperare qualche posizione, anzi, e cercare poi di stare concentrati nell'ultima parte di gara dove sarà fondamentale non commettere errori e stare lì davanti per lottare per le posizioni che contano. Grazie a tutti.